Erano migliaia i giapponesi radunati davanti alla sede della TEPCO in quella che è ormai diventata una regolare protesta del weekend nei confronti della società che gestisce la centrale di Fukushima. La paura per un eventuale nuovo incidente è molto forte e ha spinto la gente comune ad attivarsi contro l'energia nucleare. Sono qui perché ogni giorno sono in ansia. In Giappone ci sono molti terremoti e non si possono mai prevedere eventi di questo tipo, dice una ragazza di 27 anni. La tensione è salita quando i dirigenti della TEPCO non si sono presentati all'appuntamento preso con gli organizzatori della manifestazione che volevano consegnare una petizione. La polizia ha poi permesso a cinque di loro di avvicinarsi alla sede e di leggere il documento a un rappresentante della società.